In arrivo nuovi finanziamenti per la scuola Diaz di Monteruscello. I fondi, 75 mila euro, saranno utilizzati per ristrutturare tutte le aule che saranno dotate di un laboratorio multimediale con lavagne interattive e computer, diversi laboratori e gli spazi esterni. Filippo Monaco, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monteruscello, parla di un restyling generale cui ci si adopererà nei seguenti mesi per rimodernare l'intero plesso scolastico. Dopo tanti anni avrà un restyling completo delle sue infrastrutture, dai nuovi impianti sportivi all'esterno con playground, palla a volo, palla a canestra, piste di atletica. Ma la cosa importante è che il territorio potrà usufruire due grandi spazi all'interno di aule magne, teatri, con 140 posti a siedere ognuna. Per cui, alla luce di tutte queste innovazioni strutturali, la scuola si apre al territorio ed integra quello che è il fabbisogno di un territorio come quello di Monteruscello, all'interno della nostra istituzione scolastica. Al via dunque i lavori di ristrutturazione dell'intero plesso con nuovi impianti sportivi. Saranno rinnovate le palestre, allestite attrezzature sportive negli spazi esterni, tra cui una pista di atletica e un campo di basket, calcio e pallavolo. La scuola beneficerà inoltre anche di due nuove sale teatro, che fornite di nuovi impianti che consentiranno di utilizzare lo spazio anche come auditorium. Le due sale avranno 140 posti ciascuna. La scuola, in questo modo, si aprirà al quartiere e al territorio. Potendo ospitare un pubblico così vasto, gli alunni si dedicheranno a molte attività extracurriculari. Noi puntiamo al coinvolgimento dell'attività scolastica innanzitutto delle famiglie, dichiarato Monaco. Già oggi molti genitori interagiscono con la nostra offerta formativa che offriamo puntualmente sia in orario curriculare che sia in orario extracurriculari ai nostri alunni attraverso i laboratori che molti genitori collaborano con la nostra istituzione scolastica. Ma vorrei aggiungere anche che stiamo cercando, grazie al finanziamento di circa 75.000 euro, di ammodernare tutte le aule attraverso. Ogni aula avrà un laboratorio multimediale con delle lavagne interattive, con un computer, dove gli alunni dalla postazione del banco potranno interagire direttamente con il mondo intero attraverso lo strumento di internet con un click, semplicemente. Sono molti i genitori che svolgono corsi nella scuola e che si impegnano nel quotidiano nel plesso scolastico. La scuola dunque si rivolge alla cittadinanza, una scuola moderna che sappia essere un punto di riferimento per il quartiere in cui opera. I plessi scolastici che fanno capo a questo istituto comprensivo operano principalmente con bambini e ragazzi del quartiere di Monteruscello. Come istituzione scolastica è il nostro compito essere a servizio della comunità, soprattutto quando ci sono evidenti difficoltà dovute al disagio sociale ed economico, ha dichiarato Monaco.